Si è svolta stamani a Catania la giornata della sensibilizzazione ecologica, protagonista indiscussa dell'appuntamento un'eco canoa coloratissima. E se Orietta Berti cantava affinché la barca va a lasciar andare, stavolta ad andare in mare è stato un mezzo davvero alternativo. Dal porto di Catania sino ai lidi della playa, questa l'ha attraversata fatta stamani intorno alle 10 in occasione della giornata della sensibilizzazione ecologica da una coloratissima canoa realizzata con 400 bottiglie di plastica, che partendo come detto dal porto di Catania ha attraversato il tratto di mare che conduce sino alla playa del capologo Etneo. Un progetto nato per gioco forse, ma di sicuro un'occasione in più per sensibilizzare al riuso e al riciclo. Parecchi gli enti e le associazioni che hanno aderito all'iniziativa, tra cui il comune di Catania, Legambiente, WWF Sicilia Nord Orientale e gli alunni di un liceo di Belpasso che si sono impegnati nella raccolta delle bottigliette destinate alla realizzazione dell'eco canoa. Faccio subito la domanda, ma c'era bisogno di un'iniziativa simile? Basta vedere le tonnellate di rifiuti che abbiamo in ogni dove, nei boschi, nelle strade, lungo i fiumi e così via, quindi sicuramente c'era bisogno di fare delle iniziative di sensibilizzazione ecologica. Questa è semplicemente una delle tante possibili iniziative. Questo è l'ultimo weekend di agosto, quindi per cogliere quante più persone possibile. La canoa altro non è che un mezzo per richiamare l'attenzione verso i problemi dell'ecologia, però l'obiettivo rimane sempre quello della sensibilizzazione ecologica, per cui cerchiamo di prendere e di raggiungere quanto più persone possibile con il nostro messaggio. Quante bottiglie ci sono volute per questa canoa? Circa 300-400 bottiglie. Tengo a precisare che tutti i materiali della canoa sono tutti materiali riciclati, in particolar modo le bottiglie sono state procurate dagli alunni di due istituti scolastici, quindi hanno fatto loro la raccolta differenziata, quindi le hanno portate e poi insieme abbiamo iniziato la costruzione di questa ecocanoa. L'appuntamento di oggi ha avuto inizio stamattina al circolo canoa di Catania, dove una delegazione dell'amministrazione comunale ha presentato il progetto, poi la spinta in mare della canoa guidata dal belpassese Giuseppe Rapisarda, collaboratore del progetto, che a colpi di remi ha raggiunto uno dei liti catanesi, dove insieme ai volontari del WWF non solo ha avuto la possibilità di assistere alla schiusa delle uova di tartaruga carretta. A conclusione della traversata poi si è tenuta una conferenza stampa durante la quale l'attenzione è stata puntata sulle tematiche di raccolta differenziata, riuso e tempi di biodegradabilità dei rifiuti.